Il DRMS Cordless è l'automatica di misura di resistenza di resistenza automatico, produttivo e sviluppato da Synth Technology, una firma basata in Florence, Italia. L'istrumento è designato per misurare la resistenza di materiali strutturati, come i marbre o altri strutturi naturali, e materiali di construzione, come i mortari e le bianche, sia nel lab e sul sito. In questo video vedrai come installare, collegare e usare il sistema, sia nel lab e sul sito, e anche come elaborare i risultati test. Il DRMS è composto da un'automatica drill e un set di accessori in un caso di resistenza. Il DRMS è un'automatica drill. 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 Il sistema è servito anche con un piccolo computer, includendo software preinstallato, e un cable di usb connessione al sistema. In qualsiasi caso, un CD con manuale dettagliato e software è servito. L'installazione software è automatico e molto facile, proprio come connessione del sistema. Grazie per la visione! Il software permette di un sistema di test completo. Per una mesura più relativa, la velocità rotazione e la velocità di penetrazione sono mantenuti constanti durante il test. Dentro del sistema c'è una cellulare calibrata, che può essere messo a zero prima di iniziare la mesura. Il test è automatico, con la mesura continua a mesura e a registrazione della forza di iniziare la dimensione. Grazie a tutti Il sistema aiuta anche le mesurazioni di sito Un campo di applicazione tipico è la preservazione e conservazione del carattere culturale Il software post-elaborazione permette di controllare i mesurazioni di risultati Up to 6 test together And to export them in different formats It's also possible to make a further analysis of the test Like average and modification of the selected curve Grazie a tutti Grazie a tutti